che poi fondamentalmente io ieri mi sarei aspettato buongiorno innanzitutto io ieri vi dico la verità io mi sarei aspettato dopo la partita visto che allo stadio c'era anche John Elkan con il cuginetto mi sarei aspettato che almeno uno dei due andasse in confronto a stampa a chiedere scuse ai tifosi e invece a me la cosa che mi preoccupa più di tutta questa storia non è tanto la squadra che quest'anno fanno ridere è il silenzio della società a me questo è quello che preoccupa perché sai, i giocatori quest'anno si sa la squadra è scarsa, siamo scarsi la stagione com'è però è il silenzio della società e questo è la cosa più preoccupante perché comunque come ho scritto anche ieri sul mio profilo di facebook ci sta un anno abdicare te dopo nove anni che vinci ci sta un anno abdicare ci può stare, per l'amor di dio ma dipende come lo fai perché io posso accettare di perdere perché fa parte dello sport, no? vinci, perdi, ci sta quello che non accetto e l'ho detto anche ieri sera è che questa questa qua questa questa va onorata fino alla fine va onorata perché questa questa qua questa c'ha 120 e passanti storia ok? e noi tifosi e noi tifosi giuventini pretendiamo che venga onorata questa maglia ok? e poi ripeto dopo nove anni ci può stare perdere nessuno lo mette in dubbio però c'è modo di farlo ok? speriamo che finisca presto questa stagione ragazzi perché veramente e noi cominciamo a fare calcoli mica calcoli perché io già li sto leggendo no? eh ma speriamo che Napoli perda qui speriamo che Milan perda là di qua lasciamo stare perché vi dico una cosa che magari non tutti sanno Total Inter noi con Atalanta Napoli e Milan con tutte e tre a pari punti stiamo dietro negli scontri diretti perché con Atalanta abbiamo un pareggio e una sconfitta con Napoli abbiamo una sconfitta a San Paolo per 1-0 se non sbaglio e vittoria a Torino per 2-1 ma appunto quel gol in trasferta per Napoli pesa è davanti a noi e con Milan abbiamo vinto 3-1 a San Siro e perso 3-0 dietro in casa e qui siamo dietro pure con Milan quindi lasciamo stare di fare i calcoli basta se arriviamo in Champions League se arriviamo se arriviamo in Champions League sarebbe penso un miracolo calcistico di quelli allucinanti secondo me quindi ah un'altra cosa mercoledì si torna in campo a Reggio Milano con Sassuolo e lì prevede un'altra legnata domenica c'è l'Inter e secondo voi Antonio Conte viene a Torino a regalarci i tre punti per farlo andare in Champions non scherziamo raga non scherziamo Antonio Conte viene a Torino per farci fuori anche magari dall'Europa League a quello non importa niente a quello quindi stiamo buoni finiamo quest'anno ma io guarda io poi ho pronto spunto anche da un altro video che ha fatto il mio amico io spero che a questo punto che la UEFA ci butti fuori dalle coppe ci butti fuori dalle coppe spero di la UEFA perché tanto cioè per andare a fare figure di merda anche in Europa League non ci vado per andare a Salonico in Azerbaijan in Qatar dove si va in Europa League perché nei primi turni vai anche in Congo a giocare no? io spero che la UEFA ci butti fuori dalle coppe a sto giro ok? così passiamo ripartiamo ci facciamo solo il campionato e ripartiamo da zero con altri giocatori un altro allenatore chissà a questo punto spero anche un forte cambiamento a livello societario e niente però non stiamo a fare troppi conti di qua di là a quarto lasciamo stare con ieri sera poi io ieri ho fatto un video dove l'ho detto ieri sera chi perde era fuori della Champions League poi ci vediamo fra tre domeniche fra tre partite e vedrete che ho ragione e niente con questo ragazzi vi saluto vi auguro una buona giornata io tra poco vado a lavorare magari ci sentiamo in giornata ci sentiamo e comunque poi ci sentiamo stasera ok? buona giornata buon lavoro per chi va a lavorare e come sempre fino alla fine forza Juventus perché quello che conta è questa solo per la maglia e basta questo è quello che conta gli undici indegni che vanno in campo per me possono fare le valigie oggi stesso tutti quanti nessuno escluso ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti